Quando il gioco si fa serio. È questo il nome scelto per l'iniziativa contro il gioco d'azzardo lanciata dal CSV, il centro di servizio per il volontariato di Napoli, in collaborazione con il Comune. Una tavola rotonda che si è posta all'obiettivo di indagare a 360 gradi il fenomeno del gioco d'azzardo e le ripercussioni di questo sulla vita delle persone. Intervenuti nella discussione anche operatori sociali, cittadini, rappresentanti del terzo settore e persone che hanno combattuto con difficoltà la ludopatia. Ascoltiamo ai nostri microfoni Giovanna De Rosa, direttrice del CSV di Napoli. Lo scopo di questo evento è proprio quello di mettere insieme quanti più soggetti e sensibilizzare tutte le istituzioni, il terzo settore, la cittadinanza a condividere i processi perché con un'amministrazione condivisa possiamo analizzare i bisogni e sicuramente dare delle risposte che diano un'azione sistemica. Intervenuta all'incontro quando il gioco si fa serio, anche l'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, Roberta Gaeta. Ascoltiamo. L'occasione di oggi è quella di parlarne ma anche di interrogarsi fra operatori e parlarne con chi queste cose le vive, quindi con i familiari o con le persone che hanno vissuto o vivono situazioni di questo genere. In realtà il gioco è una grande risorsa, non è un problema, non è una patologia, lo diventa quando diventa una dipendenza.